Ciao, bentornato oggi sul canale italiani con notizie come punto sicuramente anche Alfonso Signorini si sarà commosso dopo aver appresso quella tenera notizia Lui c'era quando l'amore è sbocciato tra quel dinamico duo, i quali si stanno preparando ad allargare la famiglia Ecco di chi parliamo.Alfonso Signorini, nel corso della sua carriera, che sia al settimanale chi o tra le mura del grande fratello, di amori sbocciare ne ha visti parecchi, alcuni addirittura li ha scoperti in anteprima assoluta Non tutti hanno poi avuto l'epilogo sperato, ma fortunatamente, per allietare il cuore dei romantici più accaniti, molte di queste coppie, sono ad oggi ancora insieme E il caso dei due protagonisti di oggi, i quali hanno comunicato al mondo che presto da due, diventeranno in tre Dopo la rivelazione che la dolce fanciulla ha fatto, sono incinta, i follower sono esplosi di gioia, in quanto la loro storia d'amore se la sono goduta fin dai primi scambi di sguardi Chissà se anche Alfonso Signorini si sarà commosso per una delle coppie più amate di sempre? Il loro amore è iniziato sotto le telecamere.I due futuri genitori si sono conosciuti e innamorati proprio sotto le telecamere Vigili del grande fratello VIP, condotto da Alfonso Signorini, il quale insieme al pubblico da casa, ha visto giorno dopo giorno, nascere quell'amore che inizialmente fu criticato, perché è visto soltanto come qualcosa per fare audience Nonostante la cattiveria gratuita, i due ex Jeff Finney proseguirono a testa alta e adesso, dopo tre anni da quell'incontro, hanno deciso di allargare la famiglia Sono diventati molto presto una delle coppie più amate di sempre, anche se gli haters purtroppo hanno preso di mira anche loro diverse volte, come quando hanno insinuato che loro non fossero una coppia vera, solo perché non avevano avuto figli In quell'occasione, la diretta interessata aveva il risposto in maniera molto diretta, ma vi rendete conto cosa deve sopportare una persona? Ma vi sembra normale sfr così? E se una coppia avesse problemi ad avere figli? Davvero non c'è un limite sui social? La famiglia si allarga.avete capito qual è la coppia in questione, nata sotto i riflettori del grande fratello Vip, che ha allietato i follower, con quell'originale video social, nel quale comunicano che presto diventeranno genitori? Stiamo parlando proprio di loro, di Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, ex adua del Vesco, i quali hanno svelato al mondo Ci siamo conosciuti e amati sotto i vostri occhi e oggi ancor di più siamo felici di condividere con voi la nostra gioia più grande, diventeremo mamma e papà Piccirindu, ah, noi a Chinu non vediamo l'ora di conoscerti. Vi riportiamo il post con il quale Andrea e Rosalinda hanno svelato al mondo la loro felicità, il quale è molto dolce e ironico, come d'altronde sono sempre stati loro due da quando si sono messi assieme Non possiamo che unirci anche noi ai follower e fargli i nostri migliori auguri